Ridurre gli incidenti stradali sulla rete stradale e autostradale del 50% entro il 2030. È questo l'impegno che ha messo in campo ANAS in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. La strategia di ANAS è focalizzata sulla manutenzione programmate sul potenziamento della rete stradale, con l'obiettivo di superare la logica dell'intervento emergenziale in favore della prevenzione. Un approccio possibile grazie alla significativa iniezione di risorse prevista dal contratto di programma ANAS 2016-2020, che è passato da 23,4 miliardi a un totale di 29,9 miliardi di investimenti. ANAS ha anche lanciato il nuovo spot Vite Parallele, che a partire dal 20 novembre verrà diffuso sui principali media nazionali per diffondere la cultura della sicurezza stradale.